Presso la tredicesima commissione della Camera sono stato relatore sulle proposte relative all'abrogazione di atti normativi pre-repubblicani, cioè quelli che vanno dal periodo 1861 al 1946. Per darne un'idea si tratta di reggi decreti che disciplinano il pascolo di bestiame, la selvaggina, la caccia. Il tutto si inserisce nel progetto, fortemente perseguito dalla maggioranza parlamentare, di snellire i nostri testi normativi, di semplificarli per dare modo ai cittadini di avere leggi più nuove, più al passo con i tempi e più facilmente consultabili. Un altro passo in avanti verso la delegiferazione e lo snellimento delle procedure nell'interesse dei cittadini. Credo sia un ottimo segnale di vicinanza del Parlamento a quelle che sono le esigenze della nostra comunità nazionale.